rieccoci su questo canale dopo un po di tempo con un primo nuovo video beh sono cambiata un po di cose all'ultima volta e a breve porterò anche un intro questo è diciamo che il primo video per introdurre un po il canale che farò giacere qui giusto per metterlo bene questo è il nuovo setup con un nuovo monitor samsung curvo full hd una soundbar della panasonic una xbox 1s per fare la control center classica piantina di l'ikea e un modificatore bene io sono salvatore picella così è che ho deciso di chiamare questo canale che prima si chiamava white edge italia bene avevo iniziato un progetto in collaborazione con dei miei amici però in verità purtroppo non sono mai riuscito a completare questo progetto bene dunque chi sono io sono uno studente liceale che è breve andare all'università fare quanto il quinto anno infatti e quindi faccio il rischio scientifico bene diciamo che questo video non ho molto la dire sarà molto impatto giusto così per fare un video perché ho voglia di parlare questo non lo voglio aprire proprio per questo e ho deciso che in vostro il canale in questo modo con poco editing per due principali motivi uno ho molto poco tempo nel senso che tra studio e anche una vita sociale che per fortuna posseggo dato che molti miei colleghi studenti a volte rinunciano ad una vita sociale per per studiare insomma per fortuna o entrambe che però mi portano via un bel po di tempo anche tra sport come potete vedere questa maglia che del tiro a segno che lo sport che pratico bene comunque tornando a noi vorrò essere molto d'impatto con poco editing e dicendo sempre cose spontanee come mi vengono quindi spero di fare almeno le mie due visualizzazioni a video e del mio obiettivo e le due visualizzazioni che vorrei sono la mia quella di mia madre quindi già se arriviamo a tre sono soddisfattissimo dunque spero tanto che il canale vi piaccia spero di portare qualche progetto qualcosa di carino che ho in mente e soprattutto di non essere noioso di non essere normale insomma per essere un po diverso da youtube italia che c'è adesso youtube genere quindi una stessa cosa che passa veramente anche in bassa risoluzione eccetera catturata col mio iphone in questo momento a registrare il tutto c'è il mio iphone 10s nei miei sogni iphone 6s plus e a usare da playstop il mio apple watch serie 2 bene diciamo che abbiamo fatto un po una panoramica del canale e a breve arriverà qualche video magari qualche video già vecchio c'è messo lì prima o poi arriveranno dei video davvero carini o qualcosa in mente di davvero davvero bizzarro dico tanto una parola un giorno magari qualcuno rivedrà questo video il bucchio ne so magari lo rivedo io dico solamente una parola stampa 3d beh sono due però sarà un punto vi ringrazio per aver seguito il video se siete qua fuori anche se ne dubito e ci vediamo in un futuro video alla prossima